Se ne parla da mesi ma ancora sull'ospedale unico non è stato trovato un accordo tra i sindaci di Fano e Pesaro che hanno visioni opposte sulla possibile ubicazione del nuovo nosocomio, Serie a Chiaruccia e Ricci a Muraglia. Quello della sanità è stato il tema al centro dell'incontro avvenuto stamani in Ancona tra i due primi cittadini e il presidente della regione Luca Ceriscioli che ha voluto verificare se le due amministrazioni avessero raggiunto un'intesa sul sito. I tempi per trovare una sintesi sono stati più che adeguati, non si può aspettare ancora, ha detto Ceriscioli, è troppo lunga l'attesa per gli operatori sanitari e per gli utenti ai quali in questi cinque anni si sono chiesti sacrifici in vista dell'accorpamento in un'unica struttura dell'attività che oggi è divisa in tre plessi distinti. È arrivato il momento di decidere, sostiene il presidente, e di avviare il percorso per realizzare l'ospedale unico. Da oggi decide la regione. Di questo argomento se ne è parlato anche mercoledì sera durante il programma di Fano TV Primo Cittadino, in cui il sindaco Seri ha ribadito il suo pensiero. Non ho gradito l'atteggiamento del collega pesarese che nei giorni scorsi ha dato il termine di un mese per trovare un accordo, ha detto. Ricci infatti rimane inflessibile e continua a bocciare la proposta di Chiaruccia. Io non ho gradito, e l'ho anche detto agli organi informazioni, l'atteggiamento, perché tra sindaci non ci si danno ultimatum, si cerca di ragionare. Poi ognuno di noi rappresenta gli interessi di una città, ma quando parliamo di sanità dobbiamo volare alto. Quando parliamo di nuovo ospedale, se si deve scegliere un'ubicazione, la si deve scegliere nel posto più giusto per la gente. E non a caso io mi sono già confrontato anche con molti sindaci dell'entroterra che hanno anche apprezzato il mio modo di lavorare, il mio modo di coinvolgerli. Io ho indicato Chiaruccia, sulla quale onestamente più ci penso e più l'analizzo e più sono convinto che sia il posto migliore. Però è chiaro, io sono il sindaco di Fano, potrei non essere obiettivo. Obiettivo, però è un'area completamente pubblica, completamente pianeggiata, che si trova vicino all'uscita dell'autostrada e vicino alla superstrada. Da Lunano si arriva prima a Chiaruccia che a Pesaro città. Però è un dibattito che va approfondito. Lo stesso Presidente dice che qui non ci sono soldi per il nuovo ospedale. Allora io qualche preoccupazione ce l'ho, rischiamo di parlare del nulla. Però è anche vero che bisogna anche cercarli. E non vorrei che domani, quando si dovrà parlare del sindaco Seri, che sulla sanità non abbia fatto tutto quello che doveva fare per la sua città,